Incidente a Rosà in via Manzoni, strada provinciale 58 all'altezza dell'incrocio delle quattro strade. Erano le 12.20 quando una Renault Megane, condotta da un 32enne di Tezze sul Brenta, si era fermata per dare la precedenza, prima di svoltare a sinistra proprio in direzione di Tezze. Da Cartigliano sopraggiungeva invece una moto BMW condotta da un 54enne di Marostica. L'impatto è stato violentissimo e frontale. Codice rosso per il motociclista subito trasportato all'ospedale San Bassiano. In l'isola automobilista da stabilire ancora le cause dell'accaduto sul posto, la polizia locale nord-est di Centino, distaccamento di Rosà con una seconda pattuglia per regolare il traffico.